I dipendenti della Mercatone 1 di Pineto, la luce delle ultime vicende legate al fallimento della Sherman Holding che da otto mesi gestiva i punti di vendita dello storico marchio, si sono ritrovati nella sala consigliare del comune di Pineto per un'assemblea nel corso della quale hanno cercato di fare il punto sul da farsi di questa delicata fase. Durante l'incontro è stata rimarcata la necessità di coinvolgere tutte le istituzioni per ottenere un'amministrazione straordinaria, rescindendo il contratto con la società fallita al fine di poter garantire almeno gli ammortizzatori sociali dipendenti, i quali chiedono ovviamente anche un impegno concreto a tutela dei posti di lavoro. Noi abbiamo uno dei punti più importanti, più significativi sul nostro territorio, il punto storico della regione Abruzzo. Mi sono attivato già sia per chiedere al ministro Di Maio di essere coinvolti ed aggiornati tempestivamente di quelli che saranno gli sviluppi, così come mi sono messo in contatto con l'assessore regionale chiedendo di poter partecipare, di essere informato, insomma tutti quelli che saranno sviluppi e auspicando anche un ruolo attivo da parte della regione Abruzzo. Non appena si insedierà il Consiglio Comunale noi torneremo come Consiglio Comunale a rendere partecipe tutte le parti politiche come è già stato fatto una volta ed ogni livello istituzionale affinché non si distolgano le attenzioni da questo problema importante perché parliamo di oltre 40 famiglie senza contare gli eventi che già in qualche modo penso di aver perso le speranze in qualche modo rispetto all'occupazione. Parliamo di 40 famiglie che oggi non sono state neanche licenziate paradossalmente, sono sospesi questi lavoratori, quindi senza ammortizzatori sociali. Di fronte ad un fallimento c'è intanto la richiesta di tornare a rientrare nell'amministrazione straordinaria, quindi sotto le attenzioni del Mise in maniera tale da riavere nell'immediato quelle misure di ammortizzatori sociali e poi di riprendere immediatamente quel percorso per tornare ad incontrare possibili soggetti interessati al rilancio delle strutture.